Prispo! Sì, ma tu lo dici? 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 E tu Bari? Tu Bari? C'è Bari? Tu Bari? Sì, e tu Bari e tu Foggia, via! Che piacere, ragazzi! D'altronde bucaioli con questa quarantena che si deve fare qualcosa di davvero avventarsi. Mi comincia a mancare il cibo in casa, ragazzi. Quindi io non mi ascegno. Bisogna cominciare a razionare i viveri, glielo ho detto alla mia donna. Stasera sceno solo io e te tu mangi domani a pranzo. Tanto senti, lo spezzati non ce la fai. C'è gli zingani, ma nemmeno a pestare la ladra. E gli hanno tutti gli speratici con queste case per non sanno dove fare. Anche loro fanno fermi, non lavorano. Ma che non ci fai? Grazie, anche per andare a buttare i sudici mi fa adesso uno sbagliatore. E mi tocca guardarmi a destra e a sinistra per vedere se c'è gli sbirri, i carabinieri, quando si fermano, si fanno la contrappezione. E invece mi tocca andare a buttare una bottiglia alla volta per fare i cenerati in su e in giù. Gente fuori di casa accanto alle finestre lì in Italia. I miei vicino gli ha sbagliato e gli ha cominciato a urlare Meno male che Silvio c'è! Che è fatica? Gli ha sbagliato? Gli ho detto, vischeru! Ci avevo da far chi comprare altro ma nemmeno a pestare l'assassino dei cani se lo prendi sullo strarocchi nel culo. E non so se festeggiando su Instagram, su Facebook lo farò su Youtube. Poi gli hanno detto, dice andate a farla spesa un po' alla volta. Sono a segagliato davanti agli altri. Da poco a questi giorni non so io che fare. Mi sono messo a fare come vecchi, mi sono messo a spiare dalla fersiana per vedere chi passa. Il problema non passa nessuno. Gente in casa non sapevi che fare se hai messo a scavacune tipo a rotta, mi scappa fuori. Via, io la mattina a marzo do il cencio, gli aspetto gli asciughi fa da mangiare, mangio, gli do il cencio gli aspetto gli asciughi poi gli do il cencio, e che devo fare? Tanto a tirote devi passare il tetto. Biscola! Fu! Quanto le dici te? Via, qualsiasi? Ma quale è biscola? Non lo vedi io con la carta? Via! Ora ciò da dare il cencio e mi asciugavo. Buona, ci siete!